Ragazzi, vi porto da Rollo Prollo che ci fa vedere uno splendido gioco di magia, una garanzia. Oh, guarda, magia in prompto. Abbiamo bisogno di un assistente. Assistente. Splendido assistente. Si, però, non devo fare niente. No, è l'assistente. Hai un ruolo fondamentale. Pan di zenzaro ci permetterà di fare questa routine magica. Vai. Quindi un anello e una stringa. E una stringa che può essere anche un elastico lungo. Ma tenuto medio così. Non troppo teso. Allora, obiettivo è fare entrare l'anello dentro la corda. Allora, inserisco. Avvicino un po'. Non troppo. Creo l'asola. La calzo. Dopodiché prendo questo. Lo tiro sopra. Wow, è entrato dentro. Bello, di impatto, di impatto. No, no, e poi il resto? Facci vedere la continuazione. È il contrario. Allora, quello che è entrato, quello che è entrato, la compenetrazione. Ciò che entra esce. Allora, appoggio l'indice della mano sinistra, prendo l'asola prima dell'anello. Sì. Tu tieni il pollice dritto. Dopodiché vado a prendere la stessa parte dopo. Non faccio sovrapporre le corde. Sfilo l'indice e tiro via l'anello. Rien ne va più, l'esce son fe. Eh, ma Pandi Zenzero ha un pollice che non perdona. No, diciamo, ha elargito le mie energie e l'acqua che non uscisse. Ciò che entra esce. Cosa intendi? Ti sei portato un ospite, un esperto della materia. Ciò che entra esce. Lui è in trilogia e si sta dedicando alla quadrilogia. È il principio della trasformazione, dottore. È il principio della trasformazione. Ciò che entra esce. Si parla di energia. Energia positiva. No, no. Nulla si crea, nulla si distrugge. Tutto si trasforma. Tutto si trasforma. Da piccolo a grande, da grande a piccolo. Senti lei, con questa perla di saggezza. Da centro a fuori, da fuori a bene. Da Cunio vi salutiamo, vi mandiamo un bacione. E pensate che questi sono i migliori clown che offre l'associazione. E che cavolo, ragazzi. Come si ammessi. Va bene, va bene. Sorriso, ragazzi, sorriso. Yeee.